Il primo gradino della fede Il primo gradino della scrittura dalla lettera degli ebrei dice, una frase molto nota, chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano. Chi si accosta a Dio deve prima di tutto credere che esista. Per parlare della fede, carissimi amici, a un livello così generale, così elementare, non possiamo basarci solo sulla Bibbia, perché la Bibbia avrebbe valore per noi cristiani e in parte per gli ebrei, ma non per gli altri. Per nostra fortuna Dio ha scritto due libri, non uno solo. Accanto alla Bibbia, che è un libro fatto di parole, di lettere, esiste un altro libro fatto di cose, un libro che non solo quelli che sanno leggere e scrivere possono leggere, ma tutti. Ed è l'universo. L'universo, le creature, è come un magnifico libro che Dio ha scritto e che si può leggere anche di notte, tra l'altro, perché dice un salmo molto bello, i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Dunque, questa volta, carissimi amici, vogliamo tenere un po' gli occhi spalancati su quest'altro libro immenso, che è il creato fatto di cose che tutti possono leggere, tutti, tutti, cattolici, cristiani, buddhisti, musulmani, su tutta la faccia della Terra. Anche perché bisogna sfatare un pregiudizio, cioè che la scienza ormai abbia risposto a tutti i quesiti che si pongono sull'universo, quindi non ci sia più bisogno di porre l'ipotesi di un creatore fuori di esso. Questo è un equivoco che va dissipato. Anzi, io sono convinto, carissimi amici, che oggi la scienza ci porta più vicino alla fete di che non nel passato. Per esempio, la famosa teoria del Big Bang, con cui si fa cominciare la storia del mondo, ci porta proprio vicino, non ci può far credere perché la fede è frutto di un salto di qualità, ma ci porta vicino. Pensate, dunque, gli scienziati dicono che in un miliardesimo di miliardesimo di secondo si passa da una situazione in cui non esiste nel tempo, nello spazio, ne niente, a una situazione in cui esiste il tempo, lo spazio e in cui in una particella infinitesimale di materia è condensata tanta energia e tanta massa da poter spiegare tutto l'universo che si svilupperà, Dante direbbe, si squadernerà con i suoi miliardi di galassie in seguito. Qualcuno dice, non ha senso porsi la domanda cosa c'era prima del Big Bang, perché non esisteva il tempo, dunque non ha senso porsi la domanda cosa c'era prima. Eh no, io dico come si fa a non porsi questa domanda, limita la ragione chi rifiuta la possibilità di porsi questa domanda. Ho letto anche recentemente in un'opera divulgativa della scienza che ripercorrerà al ritroso la storia del nostro universo, è come un po' leggere un libro dalle ultime pagine in su, quando si arriva all'inizio si ha come l'impressione che manchi la prima pagina, quella che contiene la chiave di tutto. Ecco, io credo che la Bibbia ha proprio qualcosa da dire su quella prima pagina mancante che spiega tutto. Adesso vogliamo dare uno sguardo insieme a come è stata interpretata la creazione, in principio Dio creò il cielo e la terra in un famoso ciclo artistico, quello dei mosaici di Monreale. Qui vedete il famoso complesso di Monreale, una chiesa costruita dal re Normanno Guglielmo II nel XII secolo. Dunque, vediamo un po' adesso, qui è Dio che crea il sole e la luna, vedete, che nell'originale sono colori meravigliosi. Tiene in mano Dio un rotolo che è come il piano futuro della creazione, come un artista che ha in mano il progetto. Andiamo avanti, vediamo Dio che crea gli uccelli e i pesci, in basso vedete i pesci del mare. Andiamo avanti ancora, vediamo ancora qualcosa, Dio che crea Adamo, il soffio vitale che va da Dio ad Adamo, in alto, gli animali che vedete buoni, in fila, ordinati, aspettano di ricevere il nome da Adamo. E andiamo avanti, qui vediamo la creazione di Eva dal costato di Adamo. Qualcuno dice che qui cominciarono i guai per Dio e per l'uomo, ma carissimi amici, se i guai erano cominciati, erano cominciati prima con la creazione di Adamo, perché facendo Adamo libero Dio sapeva che correva il rischio che usasse contro di lui la sua libertà. Andiamo avanti, qui vediamo Dio come un papà che il giorno delle nozze presenta la sposa allo sposo. Dio tiene per mano a Eva e la presenta ad Adamo. Notate un particolare, la capitatura di Eva. Se avete notato qua, al momento della creazione aveva i capelli sciolti, qui è incredibile, ha fatto in tempo già andare a fare toeletta e mettersi due nastrini nei capelli. Io concludo, carissimi amici, che un certo tocco di civetteria femminile innocente, non dipende dal peccato perché c'era già prima del peccato. Dunque, carissimi amici, certo la scienza non spiega così oggi l'origine del mondo, sappiamo che le specie animali sono frutto di un'evoluzione durata milioni di anni, ma la Bibbia non è interessata a dirci come è avvenuta la creazione, non poteva, neppure poteva dirlo, ma che c'è stata una creazione, che il mondo non è frutto del caso, ma è opera di Dio. Un argomento che ci può portare vicino alla fede, anche se, ripeto, non può farci credere da solo, è l'armonia del cosmo. Chi fa sì che miliardi di corpi celesti ruotino senza scontrarsi con tanta armonia? Nessuno di noi, penso, vedendo migliaia di aerei che ogni giorno, ad ore fisse, decollano, arrivano, solcano i cieli senza scontrarsi, quindi nessuno pensa che tutto questo può avvenire senza nessun piano, nessun reglamento, nessun accordo iniziale. Ora, che cos'è il grande traffico aereo del mondo rispetto a quello che avviene nell'universo, tutte le rotazioni degli astri? Con questo, carissimi amici, noi non pretendiamo aver dimostrato l'esistenza di Dio. Quaggiù Dio lo vedremo sempre, dice Paolo, in un enigma, in uno specchio, un po' come quando un raggio di sole entra in una stanza o attraverso una foresta, noi non vediamo direttamente la luce, quello che vediamo è la danza del pulviscolo delle cose che ricevono la luce e la riflettono, e così è un po' Dio. Noi lo vediamo riflesso attraverso la danza, per così dire, delle cose. Però una cosa dobbiamo mettere ben in chiaro, non è vero che c'è una tendenziale incompatibilità tra la scienza e la fede, questo è un pregiudizio da sfatare, non è stato mai vero, perché i più grandi scienziati, quelli che hanno segnato il loro nome nel libro d'oro della scienza, erano dei grandi credenti. Pasteur, per esempio, diceva il fatto di aver studiato molto che mi ha permesso di conservare la fede di un contadino bretone, che se avessi studiato di più forse sarei arrivato addirittura alla fede di una contadina bretone. E Becquerel, premio Nobel per la fisica insieme ai Curie, diceva sono i miei studi che mi hanno ricondotto a Dio. Tutti conoscono la fede di Galilei, di Newton, di Kepler, che terminava al suo libro l'armonia cosmica con una meravigliosa preghiera al Dio degli astri, del sole e dei pianeti. Ma non solo ne è passato, verso gli anni 50 qualcuno fece una statistica dei 150 più illustri scienziati di questo secolo fino a quel momento. Bene, di 20 non si sapeva l'opinione della fede religiosa, degli altri nove si dichiaravano agnostici, cinque atei e tutto il resto si proclamavano credenti in Dio e nella vita futura. E dunque non è vero, è veramente un peccato che si sia creato questa idea che la scienza è incompatibile con la fede, dovrebbero essere venendo dallo stesso Dio alleati gli uni degli altri, i migliori alleati. In ogni caso la fede considera la scienza non una nemica ma un'alleata, nella misura in cui l'aiuta a purificare la fede dalle superstizioni, dagli imbrogli, dalle mistificazioni che sono il nemico numero uno della fede. Una cosa carissimi amici dovremmo avere in comune tutti i credenti e non credenti ed è lo stupore davanti all'universo, se non la fede almeno lo stupore davanti all'universo. Il pericolo è invece che ormai diamo tutto per scontato, parliamo di miliardi di anni luce, di miliardi di galassie come fossero noccioline. Forse l'età tecnologica in cui viviamo ha perso proprio la capacità di stupirsi e se la fede è frutto dello stupore è forse qui una delle ragioni per cui all'uomo moderno talvolta riesce difficile a credere. Ora, la domenica di domani coincide con la festa di chi? Lo sapete, è vero? Di Francesco D'Assisi, il quale nel Cantico delle Creature veramente ci ha dato l'esempio di questa ingenuità, di questo stupore davanti alla meraviglia delle creature. Nel Cantico di Frate Sole diceva tra l'altro «Laudato si e mi Signore con tutte le tue creature, specialmente Messerlo Frate Sole, cioè il Signor Fratello Sole. Laudato si e mi Signore per sola luna e le stelle, in cielo, cioè in cielo, le hai formate clarite, preziosse e belle. Laudato si e mi Signore per Frate Vento, e per Sora Acqua, e per Frate Focu, e per Sora Nostra Madre Terra. Che Dio ci dia un po' di questo stupore di Francesco per poter stare davanti alle meraviglie del Creato, anche noi, in adorazione, in stupore, ed elevarci dalle cose create al Creatore.